Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della legge dell'attrazione nell'amicizia. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, anche nell'amicizia vale la legge dell'attrazione. È spesso studiata poco, diciamo, legge dell'attrazione nell'amicizia perché si tende di più a voler sviluppare la legge dell'attrazione nell'amore la legge dell'attrazione nel successo, nel danaro, ma anche nell'amicizia la legge dell'attrazione ha il suo perché. Allora, dobbiamo tenere presente che, come dice quel proverbio, gli amici sono le persone che Dio ci manda per farsi perdonare a dei parenti. Noi attraiamo ciò che siamo, quindi l'amicizia nasconde dei processi molto più complessi talvolta anche più complessi di quelli che si attivano all'interno di una relazione di coppia. Le amicizie più autentiche, diciamo, non si basano soltanto sulla condivisione di passioni comuni, sull'avere interessi in comune. Quelle possono essere conoscenza, no? Esci con una persona, frequenta una persona perché, che ne so, vi dividete il passaggio in macchina, la benzina, oppure vi dividete, diciamo, vi dividete, che ne so, il costo dell'autostrada, per fare un esempio. Oppure per frequentare assieme, magari due amiche vanno assieme nello stesso locale perché da sole non andrebbero e invece vanno in due. Quella non è amicizia, quella è, diciamo, una conoscenza, una relazione. Ecco, la legge d'attrazione non ha nulla a che vedere. L'amicizia è una condivisione, una condivisione dove le persone possono tranquillamente aprirsi all'altra persona, parlare anche di quelle che sono le proprie preoccupazioni, i propri timori, le proprie inquietudini, ma anche le, diciamo, la propria felicità e ricevere sostegno e ricevere apprezzamenti. Apprezzamenti vuol dire che anche quando le cose vanno bene, l'amico è contento, perché è uno dei veleni mentali, diciamo, che uccide l'amicizia e l'invidia. Sei invidiosa dell'amica perché ha trovato il fidanzato che sarebbe piaciuto a te, oppure ha trovato un fidanzato e tu non l'hai trovato, e tu è uno stronzo, il suo è una brava persona, per dire. Beh, questo vorrà dire che se tu sviluppi invidia, attirerai sempre amiche che ti faranno invidiare, che accenderanno la tua invidia. Quindi la legge d'attrazione significa anche vibrare proprio sulla frequenza della sincerità. Nell'amicizia è fondamentale vibrare proprio alla frequenza della sincerità per poter attrarre poi l'amica giusta, la persona giusta, non soltanto delle conoscenze. Quindi diventiamo ciò che vogliamo essere. Noi dobbiamo veramente acquisire questa capacità di diventare ciò che vogliamo ottenere, ciò che vogliamo realizzare. Questo è il vero principio della legge d'attrazione. Quindi se vogliamo attirare un certo tipo di persona, dobbiamo essere quel certo tipo di persona. Quindi eliminare anche nelle amicizie i veleni mentali, soprattutto l'invidia e l'attaccamento. Sono due veleni mentali che vanno completamente eliminati. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale. Iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.